E come ogni serata il musico volare che si aspetta, non so mancare la tanto amata o la tanto odiata, pittica pittica E su questo arpeggio io vorrei il nostro amico, su questa base ci deggi una cosa, ce la fai? Va, vai! Va, vai! Va, vai! Direttamente da Leverano il nostro amico Lorenzo Martina, battiti le mani forte! Kimbo, vieni con noi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!